Carlo hai saputo che al prossimo congresso mediterraneo si terrà la seconda edizione dell'IOP Young? Sì esatto e ne sono davvero molto contento perché l'anno scorso per me partecipare al concorso IOP Young è stata davvero una bellissima esperienza ed è qualcosa che consiglio assolutamente a tutti i giovani che si occupano di prodotti. Te invece Giacomo cosa ne pensi? Io penso che sia una grande occasione per i giovani adontoiatri e adontotecnici per potersi confrontare con i colleghi e con i soci attivi dell'Accademia ed IOP è il posto giusto dove poterlo fare. Sono assolutamente d'accordo con te e quindi ci vediamo tutti il 24 e il 25 marzo a Riccione.